Ben trovati dentro al Consiglio nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana Ecco i titoli Nell'ultima seduta c'è stato un rinvio di una legge che modifica la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale e poi finalmente all'aperto senza indossare le mascherine dal 28 di giugno Il Corecom invece presenta un nuovo concorso per videomaker la Toscana che vorremmo nel 2050 E allora iniziamo subito con il primo tema parla della proposta di legge numero 44 che modifica la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale che torna in aula il prossimo 6 di luglio dopo un ulteriore passaggio in commissione lo ha comunicato all'aula il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo spiegando che il rinvio è dovuto al fatto che sono pervenute ulteriori osservazioni da parte della Corte dei Conti ma ci parla proprio di questo il Consigliere che è poi anche Presidente della Commissione Ascoltiamolo Oggi in Consiglio regionale la legge, la nota legge sul personale di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni a mezzo stampa è tornata dopo essere stata proposta all'aula in commissione quella legge infatti contiene prevalentemente se non esclusivamente aspetti che sono relativi ad alcune osservazioni che la Corte dei Conti ha fatto in occasione dell'ultimo giudizio di parifica alla Regione Toscana ed era preciso intendimento da parte mia come Presidente di Commissione e anche da parte del gruppo del Partito Democratico quello di fare una legge che esclusivamente recepisse quelle indicazioni per questo nei lavori della Commissione da me presieduta sono stati votati alcuni emendamenti a mia firma che hanno tolto tutte quelle parti di questa legge che non erano relativi ad aspetti richiesti dalla Corte dei Conti tuttavia nelle more della seduta dell'aula sono emersi ulteriori rilievi da parte della Corte dei Conti rilievi che sono stati trasmessi informalmente ai competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta e che si dovranno tradurre in ulteriori emendamenti da apportare a quella legge siccome ho richiesto come Presidente di Commissione su questa legge che ci fosse un'attenzione particolare sia al contenuto sia alla procedura da rispettare e ho voluto anche rivendicare da parte della prima Commissione un potere istruttorio approfondito su questa come su tutte le leggi che approdano nella mia Commissione concordemente tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale hanno espresso il desiderio che quella legge tornasse in Commissione per la valutazione di questi ulteriori rilievi avanzati dalla Corte dei Conti e io in aula ho assunto l'impegno di affrontare questi temi nella prossima seduta della prima Commissione e di riportare alla prossima seduta del Consiglio regionale la legge pronta per la discussione e la votazione in aula In realtà questa legge ha portato anche a una bagarre tutta interna al Partito Democratico tra il Presidente Bugliani e il Governatore Gianni ma stavolta torna in Commissione non per bagarre politica ma perché la Corte dei Conti ha mosso un rilievo ulteriore negli ultimi giorni, nelle ultime ore e quindi c'è semplicemente da fare un adeguamento normativo paradossalmente verrebbe da dire che meno male hanno litigato Gianni e Bugliani almeno non abbiamo già approvato una legge a cui dovremmo dovuto rimettere mano ecco, stavolta è semplicemente un passaggio tecnico va detto che è una legge che ha creato non pochi dissapori non segreti ma pubblici perché in aula hanno litigato più di una volta il Presidente e il Governatore Ci sono degli aspetti riguardo a questa legge che non ci convincono e soprattutto ci sono degli aspetti che sono stati segnalati a essere maggiormente problematici è necessario fare una legge che si attenga bene a quelli che sono le disposizioni di ordine superiore che ci vengono dati ma soprattutto anche che facciano sì che ci sia diciamo una maggiore attenzione a quella che è l'attività dei dirigenti e alle loro nomine per questo credo che un ulteriore passaggio in Commissione sia importante anche con delle eventuali proposte emendative è una proposta di legge che a nostro avviso non può ricomprendere tutta una varietà di aspetti che sono totalmente superflui rispetto a quello che è lo scopo che invece deve avere questa proposta cioè un adeguamento quindi ecco noi ci siamo approcciati in questo modo rispetto delle regole rispetto dei principi di trasparenza rispetto dei principi di legalità non accettiamo forzature non le abbiamo mai accettate anche quando il Presidente Leggiani si è presentato in prima commissione cercando in qualche maniera di forzare anche l'approvazione di un testo ex novo senza che il commissario fosse stato sottoposto alla preventiva attenzione su questo devo dire che come opposizione ci siamo sempre imposti nel rispetto pieno di questi principi a questo punto vediamo quello che sarà nell'ulteriore approfondimento nell'ulteriore istruttoria che verrà fatta in Commissione il testo che verrà licenziato però ecco per noi il principio cardine è questo adeguamento però anche rispetto delle regole per arrivare appunto a un obiettivo che è quello di un mero adeguamento Noi siamo convinti che questa legge vada approvata vedo forte resistenza nelle altre forze politiche noi continuiamo la nostra battaglia rivendichiamo l'autonomia della politica al cospetto delle funzioni dirigenziali dove la politica deve raggiungere la propria funzione farsi supportare dalla tecnica ma mai essere subalterna a questo aspetto quindi noi siamo convinti delle nostre proposte la battaglia proseguirà in prima commissione e noi lavoreremo come forza politica per fare in modo che nel prossimo Consiglio regionale senza ulteriori rinvii che quella norma venga approvata così come noi l'abbiamo concepita che è in sintonia totale con il nostro Presidente Eugenio Gianni per come la proposta infatti a noi convince è arrivata in Consiglio regionale Cambiamo argomento arriva lo stop all'obbligo delle mascherine all'aperto a partire dal 28 di giugno sempre comunque nel rispetto delle indicazioni ricordiamo che le persone devono comunque portare con sé una mascherina in modo da poterla indossare ogni qualvolta si creino delle condizioni di assembramento devono essere raccomandato però fortemente l'utilizzo della mascherina nei soggetti fragili deve essere sempre indossata negli ambienti sanitari su tutti i mezzi pubblici e all'interno delle sedi di attività economiche produttive, ricreative e negozi il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha anche ringraziato in un video postato sulla sua pagina Facebook tutti gli operatori sanitari per il lavoro svolto per le vaccinazioni e termina dicendo dal lunedì potremo finalmente riconquistare un altro pezzo di normalità ascoltiamo i consiglieri ma partiamo con il Presidente della Regione Toscana Io ritengo sia stato molto ragionevole il fatto di arrivare a questa disposizione sulle mascherine e ritengo anche sia molto importante che la Toscana in questi giorni riscontri sempre un chiaro abbattimento del numero dei contagi ormai questa settimana probabilmente arriveremo a meno 500 contagi in una settimana e sembrano lontani i tempi quando nella seconda ondata arrivavamo in un giorno addirittura a 2.700 contagi quando in una settimana, ripeto oggi superiamo di poco i 500 e siamo arrivati anche a 16.000 contagi in una settimana e insomma a quei tempi non ci dobbiamo più arrivare quindi è importante continuare la campagna di vaccinazione e ringrazio il Generale Figliolo ieri dopo, diciamo così, le perplessità che avevo manifestato nei giorni scorsi mi ha telefonato per dirmi che dal fondo di riserva che ha il Governo a livello nazionale ci consegna nei prossimi giorni altri 15.000 Pfizer è un elemento importante nel ritorno a una normalità che ovviamente deve essere sempre presa con grande attenzione perché l'anno scorso abbiamo imparato come a fronte di un calo importante poi ci può essere, se non monitorato con attenzione un ritorno all'epidemia nella fase finale dell'estate quindi mi pare comunque che sia un messaggio importante anche per tutti i cittadini per tutti gli operatori economici che va nella direzione di riacquisire una normalità che dobbiamo lavorare perché non si perda neanche a partire dalle fine dell'estate prossima di quest'estate e su questo è importante raggiungere l'obiettivo della vaccinazione di tutti i toscani entro la fine di settembre un obiettivo che nonostante alcune difficoltà nella fornitura dei vaccini comunque penso sia assolutamente raggiungibile io lo dico fin dall'inizio della pandemia gli italiani sono stati bravissimi ad adeguarsi a tutte le norme, a rispettare tutte le norme ve ne sono alcune che nessuno ha capito sono stati bravi anche a rispettare quelle che non avevano una razziologica alla propria base io penso a quel periodo in cui folle in cui alle 18 la sera si cessava la somministrazione anche da asporto delle bevande ma si continuavano a dare da asporto i cibi cioè tu andavi alla pizzeria potevi portare a casa il pezzo di pizza ma non potevi prendere la lattina la mascherina all'aperto in luoghi senza assembramenti ha un po' quella razza lì io mi chiedo ancora oggi che è obbligo perché fino a lunedì è obbligatorio indossarla anche negli spazi aperti in assenza di assembramenti quale sia la logica perché a una persona alla quale chiediamo giustamente sacrifici da oltre 18 mesi per contrastare questa pandemia perché a questa persona dobbiamo chiedere di indossare un dispositivo che specie con l'arrivo dell'estate non è la cosa più piacevole del mondo e di doverla indossare anche all'aria aperta dove non c'è nessuno queste sono le cose che gli italiani fanno senza capire che gettano poi discredito anche su quei sacrifici che invece giustamente vengono chiesti loro lo avevamo chiesto da tempo anche nella discussione in aula soprattutto nel rispetto dei ragazzi dei giovani che vogliono riappropriarsi degli spazi liberi del divertimento del luogo nell'ambito del quale creare relazioni bisogna stare all'aperto si può stare all'aperto la scienza ci dimostra che in questo periodo è veramente difficile contrarre il virus e quindi è opportuno che si torni anche a una relazione normale ancora ci saranno delle restrizioni al chiuso ma è importante questo è un primo segnale di normalità una battaglia non soltanto politica ovviamente è scientifica nel frattempo devono continuare le vaccinazioni e deve continuare la sperimentazione per il farmaco perché solamente con questi due obiettivi torneremo poi a una vita normale reale quella che io mi auguro possa essere poi da settembre dal prossimo lunedì avremo delle difese in meno quindi dovremo mantenere sicuramente un discorso sulla distanza sociale sull'utilizzo dei gel disinfettanti ancora con maggiore attenzione questo ve lo dico da medico ma credo che sia anche di buon senso quindi sicuramente è un passo ulteriore per ritrovare quella sicurezza e quella serenità che tutti andiamo cercando compatibilmente poi con quelle che saranno le cose economiche perché inevitabilmente superata la pandemia superata l'emergenza dovremo affrontare altre situazioni altrettanto gravi è finalmente un momento che aspettavamo da tempo perché oltre a essere diciamo anche una liberazione perché dato anche il caldo affoso che in questi giorni è arrivato anche in Toscana è sicuramente un segno tangibile di un ritorno alla normalità per tutti quanti e quindi viene salutato sicuramente anche psicologicamente con molto sollievo dobbiamo però continuare a raccomandare di mantenere le precauzioni che abbiamo tenuto finora per far sì che questa diciamo questa rimozione delle mascherine possa restare tale la disinfezione delle mani tenere la distanza evitare gli assembramenti tutti quei comportamenti di buonsenso che farà sì che quest'estate possa essere vissuta anche con maggior sollievo rispetto a quella dell'anno scorso e rispetto ai mesi che abbiamo precedentemente diciamo attraversato ed è stato presentato un bando di concorso per videomaker Toscana in spot 2021 ritorno al futuro è indetto dal CORE come il Comitato Regionale per le Comunicazioni per il conferimento di premi ai migliori spot video realizzati sul tema della Toscana che vorremmo vedere nel 2050 è un'iniziativa per consentire soprattutto ai ragazzi e alle nuove generazioni di esprimere la propria visione dello sviluppo nella nostra regione dal punto di vista sociale culturale economico e ambientale questo bando prevede la possibilità di offrire ai filmmaker che vorranno partecipare la possibilità di vedere la Toscana nel 2050 quindi di dare massimo sfogo alla creatività alla fantasia e all'immaginazione che è poi libertà e allora pensare a come noi viaggeremo a come noi costruiremo le nostre città a come noi lavoreremo molte cose con la pandemia hanno modificato il nostro sistema di mobilità di cultura di comunicazione ecco probabilmente quando costruiranno lo spot della Toscana nel 2050 queste cose faranno ricchezza del progetto della Toscana e poi vorremmo anche però ci auguriamo che la costruzione di questi messaggi della Toscana nel 2050 siano di giovani che guardano in positivo alla Toscana quindi alla Toscana di diritti alla Toscana che amiamo ma sicuramente una Toscana più contemporanea e che quindi abbia la creatività e la positività come temi principali è un'idea che ho lanciato all'inizio di questa legislatura quella di rappresentare con gli occhi delle ragazze e dei ragazzi più giovani quella che sarà la Toscana dei miei figli la Toscana delle nuove generazioni ringrazio Enzo Broggi che subito ha accolto questa sfida ha deciso come Corecom di lanciare l'idea di premiare i migliori filmati che possano rappresentare quella che sarà la Toscana del 2050 io mando un appello a tutte le ragazze ai ragazzi toscani partecipate date il vostro contributo provate a raccontare con le vostre lenti quella che sarà la Toscana di domani come sarà il turismo nel 2050 come sarà l'agricoltura nel nostro territorio tra città d'arti e piccoli borghi come riusciremo a farli crescere insieme e le tecnologie come impatteranno sulla vita dei cittadini che cambieranno in maniera notevole ecco attraverso gli occhi e le lenti dei ragazzi e delle ragazze più giovani vorrei che venisse fuori davvero l'idea della Toscana del futuro io in queste settimane ho deciso di andare spesso nelle scuole e lo farò per tutta la legislatura devo dire che è stata l'esperienza più bella che ho vissuto in questi mesi grande contaminazione grande capacità di leggere il presente e il futuro grande voglia di partecipare nella vita pubblica come ho detto ai ragazzi non siate mai indifferenti non giratevi mai dall'altra parte abbiate il coraggio di porci i temi di frontiera quelli più difficili da trattare il rapporto tra l'uomo e la macchina la necessità di ripensare i temi dei diritti in maniera più sensibile e questa è la sfida che noi abbiamo avanti è un'assemblea legislativa non può che porsi a discutere di questo per il governo dell'oggi c'è la giunta che lo sta già facendo molto bene il bando Toscana in spot 2021 è pubblicato sul bullettino regionale della regione toscana sul sito web del Coricom della Toscana su quello della regione che ormai conoscete www.consiglio.regione.toscana.it io vi aspetto come sempre qua tra sette giorni dentro il consiglio Grazie a tutti